L'avvocato Salvatore Mannino, il nome su cui il PD aveva deciso di puntare per le prossime elezioni amministrative, annuncia al nostro telegiornale la sua decisione di ritirare la propria candidatura a sindaco. Motivo di quello che a tutti gli effetti è un passo indietro, agevolare l'unità dello schieramento PD-Mizzica-Movimento 5 Stelle. Con grande umiltà voglio fare questo passo indietro, perché ritengo che allo Stato ci siano queste condizioni per fare il suo passo indietro, per dare la possibilità di tutti veramente concorrere a un'unione del centro-sinistra. Evidentemente le trattative tra queste forze per trovare una sintesi politica stavano rischiando di arenarsi proprio sul ballottaggio interno tra i nomi di Mannino e Fabio Termine. Sarà quest'ultimo dunque a rappresentare la coalizione con la propria candidatura a primo cittadino, 5 anni dopo quella del 2017, dopo l'esperienza interrotta anzitempo di consigliere comunale. Io mi voglio prendere un merito, dottore D'Antoni, con i miei amici. Noi abbiamo riunito tutti gli esponenti del centro-sinistra Sciacca, perché il nostro sogno era quello di portare un progetto di rinnovamento di un nuovo centro-sinistra, di una nuova primavera, di una nuova concezione della politica che potesse dare a questo centro-sinistra una nuova linfa, una nuova voglia anche di manifestarsi all'esterno. Fin dall'inizio, da quando mi è stata fatta questa proposta, ho cercato subito un contatto con Mizzica, con i ragazzi di Mizzica, perché li ritengo ragazzi presi da passione politica, ragazzi intelligenti. Ritengo che era necessario fare un passaggio di tutti verso questa crescita del centro-sinistra. Magari c'era qualche ruggine, qualche cosa, però mi piaceva tanto vedere tutti seduti allo stesso tavolo, i 5 Stelle, il PD, noi, Mizzica. Ma perché queste forze secondo lei non riuscivano a comunicare precedentemente? La mia sensazione è che molto spesso si fermano solo a degli aspetti, dei piccoli angoli, bisogna smussare degli angoli, secondo me la politica deve essere fatta per costruire. E attorno a questo progetto secondo lei si può costruire una forza in grado di governare la città nei prossimi 5 anni? Certo che si può costruire, siamo dei costruttori noi, ci sono le forze, c'è la passione, ci sono le teste, ci sono le intelligenze, quindi penso che c'è veramente la possibilità di costruire un futuro migliore e il nostro sogno era quello che guardasse ai giovani, che guardasse a queste giovani generazioni che purtroppo lasciano il paese, il nostro sogno era quello di poter a questi giovani dire ritornate, ritornate ad amare Sciacca, ritornate a credere in Sciacca, questo era il mio sogno con i miei amici del nostro progetto. Possiamo immaginare che comunque alla luce del fatto che lei oggi annuncia questo passo indietro rispetto ad una candidatura sindaco, lei continuerà a far parte di questo progetto? Ma certo, noi continuiamo sempre, ripeto, noi siamo dei costruttori, era necessario creare le condizioni per un centro sinistro unito, questo mi portava a dire che bisognava creare le condizioni per un centro sinistro, dalla grande confusione che si è creata, oggi si parla contro la giunta Valenti, però molti della giunta Valenti sono con Messina. Per quanto riguarda il centrodestra è chiaro che vive un momento anche nazionale di grande confusione e io per questo ritengo che oggi a Sciacca c'era la necessità di ricostruire questo centro sinistra. Le diverse componenti, reduci come noto da anni di rapporti difficili e in un ambito nel quale nei mesi scorsi Mizzica aveva escluso ogni ipotesi d'intesa in considerazione probabilmente della impopolarità dell'amministrazione uscente, ma Mannino che ha precisato di non essere iscritto a Edemma ha comunque ringraziato i dirigenti del PD per la fiducia che avevano riposto in lui, compresa la stessa Francesca Valenti. Preme ringraziare tutti i miei amici, tutta la gente che ho incontrato per strada in questi 15 giorni, tutti gli esponenti del Partito Democratico che pur non essendo io del Partito Democratico ho avuto veramente questo piacere di incontrare, mi hanno manifestato tanta vicinanza, tanta gioia nel poter eventualmente fare questa esperienza, ringrazio ovviamente anche gli assessori, il Sindaco Valenti che mi sono stati veramente tanto vicini e anche nel voler prendere una decisione, mi hanno accompagnato in questi 15 giorni. La percezione dell'opinione pubblica non è proprio… Ma guardi, le devo dire questo, ma complicati oggi amministrare non è semplice, perché guai a pensare che amministrare un paese sia una cosa semplice, giusto? Io apprezzo il lavoro che è stato fatto dall'Aggiunta, ieri sentivo il PARF, la rete fognaria già finanziata, so che ci sono, ma me l'hanno detto anche persone che non hanno niente a che fare con l'Aggiunta, che ci sono tanti progetti che magari già sono stati finanziati, abbiamo vissuto due anni di pandemia e che non sono stati facili per nessuno.